ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua in un nuovo video di minecraft l'inizio siamo qua nel mio villaggetto che si chiama ciocco world poi non l'avete visto perché si è fermata diciamo la registrazione schermo quindi ho visto ma oggi farò tour della mini casetta che mi sono fatta che poi la miglioreremo perché questa è una cacchetta come potete vedere questa ovviamente è la bellissima casetta che bellissima non direi tanto perché c'è li capite no quindi oggi faremo tante cose faremo però prima di tutto dobbiamo fare delle casette dovevo spavolare villager quindi villager villager no momento momento sono serio si chiama villager ma dove è andato a finire la tradizione degli italiani che non traducono assolutamente niente c'è dove è andato a finire ve lo spiegate delle lanterne possiamo mettere sì sì dopo le mettiamo così e da c'è di notte possiamo vedere dentro e anche fuori quindi dobbiamo cercare villager allora villager non so dov'è perché non trovo l'uovo ecco polo vape bucca maiale peccura uomo di vagabondo gelatina ragno zombie pigman zombie us abitante si chiama abitante ora lo sappiamo già allora perché allora wow che belli sti abitanti se voi vi chiedete dove vivranno li farò delle casette vi giuro bene ragazzi questo era l'inizio di minecraft spero che vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì ne sono dei nostri video e prima di andarci vorrei vedere un momento momento non posso scambiare no tu sembri un cuoco ok tizio tizio cartografo tu non sei un cartografo momento 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 non posso scambiare con te no con te uffa bene ragazzi credo che hanno tolto la funzione di farci scambiare con il villager noi ci vediamo in un nuovissimo video questa è la mia skill anche se c'è un bug che non me la fa vedere però vabbè ciao